Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore non viene mai rimossa da noi. Noi possiamo, con i nostri atteggiamenti, rifiutarla, non accoglierla, ma è come il sole. Se io sono cattivo, se chiudo le finestre, il sole continua a brillare ugualmente, perché nella sua natura brillare, così Dio è amore, è misericordia, è bontà infinita, è sapienza eterna, è potenza, è grazia e questa benevolenza del Signore non viene mai rimossa da noi. Anche se la rifiutiamo, Lui non distoglie da noi il suo sguardo, eterna è la sua misericordia. È una cosa stupenda, fratelli, è la cosa più bella, la più bella scoperta della vita. Quella della grazia di Dio, di questa benevolenza che riempie l'universo, che Dio rivolge verso ciascuna delle sue creature, con grande intensità. Qualche persona a volte chiede di aiutarla a pregare. Come si fa a pregare? Chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci. Vieni Spirito Creatore, Spirito Santo, sapienza amorosa di Dio, che sei presente in mezzo all'universo, che hai creato ogni cosa secondo la parola di Dio, che sei vicino a ciascuno di noi, che non ci abbandoni mai, anche se noi siamo distratti. La tua benevolenza ci circonda sempre. Apreci mente e cuore. Donaci di conoscere il vero volto del Padre, il volto di Gesù Cristo, e insegnaci a pregare. Noi non sappiamo pregare, ma tu preghi in noi. E sai chiedere al Padre quello che noi neanche conosciamo, perché tu intercedi per i santi, secondo i disegni di Dio. E viene in soccorso chiunque ti invoca e ti apre il cuore. Spirito Santo, che sei la grazia di Dio, la benevolenza di Dio, la comunione di Dio con noi, donaci di essere infervorato dalla tua presenza e di camminare docilmente sulle orme di Gesù Cristo per conoscere un giorno il Padre e di morare eternamente con Lui. A Gesù la loda e la gloria per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Cari fratelli, si può pregare in tanti modi. Possiamo dire che noi preghiamo come viviamo e viviamo come preghiamo. Cioè, la preghiera è l'espressione di ciò che noi siamo. E pregare significa rivolgere la propria anima, brevemente il proprio cuore verso Dio. E come ci rivolgiamo a Lui? A seconda di quello che noi siamo e come ci troviamo. Per cui la preghiera dipende molto anche dai valori, dalla gerarchia dei valori che noi viviamo. C'è la persona che è preoccupata del lavoro, pensa solo a quella, la persona che è preoccupata per i figli, per il matrimonio, per l'attività. Ognuno tende a rivolgere la propria vita verso ciò che ama di più. Ecco allora che la nostra preghiera, fratelli, dipende molto da come noi viviamo. Per questo, Signore, chieda a tutti noi, volendo imparare a pregare, di far entrare il suo amore nella nostra vita, di scoprire innanzitutto chi è Dio e quanto Lui ci ama. E questo lo scopriamo nel Vangelo. Gesù è la rivelazione piena del volto di Dio. Per questo, chi vuole andare a Dio, dice Santa Teresa d'Avila, varia a conoscere Gesù nella sua umanità. Perché nell'umanità di Gesù l'amore di Dio si è manifestato apertamente, visibilmente, in modo tangibile, inconfondibile. Gesù scende dal cielo, va a dare la vita per noi. Durante la sua vita terrena si occupa dei malati, dei poveri, dei disideri dati, delle persone abbandonate, dei peccatori, delle persone sole, degli orfani, delle vedove. Apre il suo cuore verso i malati, dando loro la salute, cercando il loro bene. La preghiera, allora, fratelli, attinge, non dalle fantasie, dei desideri nostri, attinge da ciò che noi conosciamo di Dio. Se noi scopriamo il suo amore, ci abbandoniamo a quell'amore. Ma se viviamo di paura di Dio, allora il nostro modo di pregare, circospetto, timido, impacciato, diffidente, dobbiamo conoscere Gesù Cristo. E in Gesù conosciamo tutta la realtà e la grandezza del Padre. Chi vede bene vede il Padre. Ecco allora, vuoi pregare? Prendi il Vangelo in mano. Scruta il cuore di Gesù. Lasciati a toccare da quella grazia. E allora, ecco, la preghiera animata dalla fede illumina la vita e muove la nostra vita verso il Signore. E noi dobbiamo sperare, non in quello che noi sappiamo fare. Qualcuno ha fiducia nelle proprie preghiere, qualcuno ha proprie opere buone. No, la nostra fiducia la dobbiamo porre in ciò che il Signore fa per noi. Cosa fa per noi? Ci dona la sua vita. Ci dona tutto di sé. E' la verità che ci promette l'eternità. E' la vita eterna, la ricchezza, la pienezza della vita. Non ci promette qualche cosa. Conoscendo poco il Signore, amiamo poco, preghiamo poco. Ecco allora la strada per la preghiera. Lasciarci toccare da Gesù. Lasciarci toccare dell'amore di Gesù. E tante volte il Signore mette avanti la sua Santa Madre, la Madonna. Tantissime persone davanti al cuore materno di Maria cedono e si lasciano avvolgere dell'amore di Gesù Cristo. Questo amore di Madre non tradisce. E' fedelissimo. Non è ingannevole. E' luminosa. E quindi, quando si rivolgono alla Madonna e pongono la loro fiducia in lei, incontrano Gesù Cristo, come Lui è realmente sposo d'amore, salvatore potente, Dio misericordioso, pieno di compassione verso di noi. Vedete allora come quando il nostro cuore si riempie di conoscenza di Gesù, allora il cuore stesso si innalza, trova la strada per la preghiera. E come dobbiamo pregare? Fidandoci del Signore. Lodandolo del Signore, ringraziandolo, benedicendolo, approvando quello che Lui dice, quello che Lui fa per noi, lasciandosi avvolgere dal suo amore, questa è la preghiera. La preghiera non sono le parole che noi diciamo, ma è lo Spirito che noi rivolgiamo verso Dio. San Paolo, nell'ottavo capitolo della Lettera Romana, dice queste parole che noi quando preghiamo non sappiamo neppure cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso, lo Spirito di Dio, intercede per noi con gemiti e inesprimibili. E colui che scrute il cuore sa che cosa lo Spirito desideri, perché li intercede per i santi, secondo il disegno di Dio. Allora, se tu sei male, è naturale che tu chiedi al Signore di essere guarito. Lo Spirito in te chiede questo. Gesù dice nel Vangelo, ma se un padre ha un figlio che gli chiede un uomo, mica gli dà uno scorpione, si chiede un pece che gli dà una serpe, il Signore vedi cosa abbiamo bisogno. Per questo Gesù nel Vangelo lo ci istruisce dicendo non moltiplicate le parole, non pensate di essere saluti a forza di parole, ma quando pregate dite Padre, rivolgetevi a quelli che vi ha creati con amore, rivolgetevi a quelli che vi fa vivere con amore, che provvede ai vostri bisogni con amore, Padre, Padre, che sei nei Cieli. E nel Padre Nostro voi vedete come Gesù non dice molte cose, ma ispira lo Spirito filiale verso lo Spirito del Padre che è Padre, lo Spirito di Dio Paterno, e bondà infinita e noi questo dobbiamo cercare. E allora lo Spirito Santo, fratelli, sa indirizzarci momento per momento nella rivolgerci a Dio Padre secondo le nostre necessità e secondo i disegni di Dio. Spirito d'amore, istruiscici nelle vie del Signore, Signore Gesù, che ha insegnato ai Tuoi discepoli a pregare, non dando molte istruzioni, ma facendoti vedere che pregavi e loro guardando Te hanno imparato ad abbandonarsi alla volontà del Padre, a fare ogni cosa per amore. Dona anche a noi di scoprirti presente nella nostra vita, perché tutta la nostra anima si rivolga verso di Te e tutto il nostro essere sia ricolmato della Tua presenza, della ricchezza, del Tuo amore e ogni pensiere, parole, opera, desiderio, sentimento, fantasia, tutto sia ripieno della Tua presenza e la nostra vita salga davanti al Padre per dargli lode, per ringraziarlo, per benedirlo, adorarlo. A Te, Gesù, la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima a chiunque tu ti manifesti chiede di pregare, 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 ma non con le labbra, pregare con la vita, come ci ha insegnato Gesù a pregare in spirito con il nostro essere più profondo e in verità a pregare Dio non come ce lo immaginiamo ma come Lui si manifesta a noi. In Te noi vediamo il modello dell'anima dedicata a Dio. innamoraci di Te, fa che Ti seguiamo per accogliere la presenza del Figlio Tuo Gesù Cristo in noi. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratello, sorella, anche se non sai pregare, mettiti davanti al Signore, apri il cuore e lo Spirito Santo pregherà per Te. Amen.